Musica Dopo il restauro durato un anno, è stato riposto nella sua collocazione originaria il crociviso del Cristo morto della chiesa di San Francesco d'Assisi di Monte Sant'Angelo. A IDM TV, Fra Giampaolo, responsabile della parrocchia francescana. Intanto diciamo questo che un anno fa, il restauro durato un anno, quando sono solito a fare le pulizie, sono avvicinato il crociviso per spolverarlo e ho visto che mi mancavano le dita dei piedi, mi mancavano le dita della mano, la corona di spina era quasi sparita, mi avvicino e vedo che è così compromesso che era diventato urgente ormai, mi ero accorto che era urgente restaurarlo, era diventato spugnoso come il pane secco, se lo toccavi si sbriciolava. E poi ho guardato alle spalle per vedere un attimo com'era e ho visto una sbaccatura che partiva dalla nuca e finiva al fondo schiena di due centimetri, quindi è una cosa che mi ha spaventato, quindi abbiamo deciso subito di intervenire senza soldi, ma dovevamo comunque salvarlo perché non era più il caso. Tra l'altro l'ultimo restauro fatto negli anni 70 si è rivelato dannoso perché lo ha per certi aspetti brevemente compromesso, nel senso che i tecnici che hanno fatto il restauro hanno trovato 5 strati di colore di cui uno dice mentite, addirittura si è capito che quelli che l'avevano fatto negli anni 70 per far attaccare la loro colorazione hanno grattato il crocifisso con i coltelli, quindi hanno fatto sparire quasi completamente il color originale. siamo comunque arrivati a quel color originale, questa è chiaramente una ricostruzione nella parte visiva perché è dietro il legno e ho mandato poi delle foto ad un amico mio a Firenze il quale attraverso solo le foto ha detto che è probabilmente di scuola umbro-toscana del 1400-1450 perché se ne trovano diversi tipi nelle chiese francescane per cui probabilmente un frate di monte sarà andato in Umbria o in Toscana e avrà visto questi crocifissi e avrà chiesto, se non allo stesso autore, comunque alla sua scuola. Abbiamo anche scoperto però che ci sono degli elementi particolari perché la posizione delle mani per esempio è di scuola francese, quella dei piedi di scuola tedesca per cui apriremo una serie di studi e vedremo un po' di fare delle ricerche per capire un po' che cosa chi ha potuto farlo. D'altronde non esistono archivi perché con le soppressioni è di Napoleone e del grande Cabur tutti i conventi hanno perso, oltre alle proprietà, ma soprattutto gli archivi che sono cose più importanti. Questo è il restauro. Adesso è tornato ed è splendido perché chi lo vede da vicino si accorge del verismo della scuola che lo ha realizzato. Per esempio noi vediamo perfettamente cose che prima non si vedeva, con i cinque strati di pittura, tutte le vene delle gambe, le vene delle braccia, le macchie di sangue, addirittura i peli sotto le ascelle, il capezzolo sinistro che è originale porta ancora i peli, ma io non ho mai visto un crucifisso che con i peli sia sulle ascelle che sul capezzolo, il capezzolo invece di destra è rifatto sul tipo. Erano scomparse le costole, non si vedevano più, sembrava un pezzo, adesso sono venute fuori, ma soprattutto è venuto fuori il viso che è di una grazia stupenda in quanto si è scoperto, per esempio, che ha gli occhi aperti, per cui non è ancora morto, ma sta quasi morendo e sembra non voler, come dire, abbandonare. Con lo sguardo Arminio Montanari, ci è venuto fuori un viso meraviglioso, una bocca, i denti che sono bellissimi e c'è questo sguardo sereno di colui che sa di aver compiuto fino in fondo la volontà del padre che è soddisfatto di quello che ha fatto, che muore contento di quello che ha fatto. Altro elemento è la corona di spine, che è verde adesso, perché è un ramo di rose, mentre le spine che qualche devoto ha strappato per devozione dovevano essere più lunghe in origini. Le abbiamo ricostruite, ma la sovrintendenza non ci ha permesso di farle lunghe così come devono essere. le ha fatte di un paio di centimetri per far vedere dove erano, anche perché non si può fare un falso storico ridipingendo il tutto. Si è ridipinto soltanto la parte visiva. Se lo si guarda dalle spalle, invece, si vede il legno con le tracce di colore originale che sono naste. Questo è, dicevo, di un anno di lavoro e che ci è costato pure poco, relativamente poco, perché stiamo raccogliendo solo 10.000 euro, nemmeno lo stipendio di chi ci ha lavorato per un anno. Ma la ditta, come dire, si è rifatta con la pubblicità che avrà a livello.